Stop alla vendita di alcolici dalle 21 anche al supermercato Carrefour di Intra, accolte le richieste dell'amministrazione comunale dopo le lamentele dei residenti. Da oggi infatti il negozio di via Quattrini a Intra aprirà 24 ore su 24. Gli abitanti della zona, che già avevano denunciato la situazione di degrado, di abuso di alcol nel parcheggio, erano particolarmente preoccupati. Sulla questione si era riunito anche il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico. Il sindaco Silvia Marchionini aveva dunque chiesto a Carrefour di terminare la vendita di alcolici anziché alle 22.30, come avviene ora, alle 21 in linea con gli altri supermercati. Da Carrefour è arrivata una risposta positiva. Apprezziamo la sensibilità dimostrata dall'azienda, commenta Marchionini, dal referente locale e da quello di area Vincenzo Martino. Non solo è arrivata anche la promessa di un intervento di manutenzione e di miglioramento per il parcheggio. Questa attenzione dell'amministrazione mira, prosegue la prima cittadina, unitamente ai tempestivi interventi delle forze dell'Ordine, a cui siamo grati per la concreta collaborazione e agli interventi di sensibilizzazione già avviati a livello distretto del Verbano, a dare risposte ai residenti, ma soprattutto a prevenire gli episodi di abuso di superalcolici e sballo in parchi e luoghi cittadini, che interessa un numero crescente di minorenni del territorio nel fine settimana. Conclude il Sindaco, la nostra azione di presidio e contrasto a forme di vandalismo continuerà nei prossimi mesi, con altre iniziative specifiche in fase di studio.